Stavo facendo un po' di imponizzi di pasta. Sai, una volta funzionava con la spiapolvera, adesso non funziona più. E così ho dovuto da una carta a quella della lampadina. Sai, beh, come mi sembra a me in questa stanza. Ogni dici giorni, fino a di sé, facciamo una pena imbassare la cosa. Visto che il mio fumo mi sono detto, bella che non fanno ora. Ho lavorato sulla casa. Però che lo faccio. Sai, come vedete qui? Io non ando qui. Io ando al numero 69. Io non ando qui. Mi sembra che ci tengo la casa. Perché sono niente custode di questa casa. Eh? Per me la casa è la mia vita. È un tanto. Le cose della casa. Il tetto del mondo. La polvera del successo. Eh? Ma che lo vedo? E quindi si te la faccetta per rispondere a tutti. Pensavo a quello di lo spingere mia sorezza, no? Devevo mettere anche un passo un po'. Non voglio un punto della polvere. Non voglio un minaccio. Ehm? Ma a proposito. Fino a quale ho intenzione di essere qua. Perché sai? Stavo pensando di abbassarti l'affitto. Il tuo, lo so. Allora, la malattia. Di finito di un tot, un quinto, un x. Non voglio, perché. Non voglio, perché. Cosa dobbiamo un minaccio. Ma, mi raccomando un po' lo che vedo. Emo solo un'altra. Non faccio un pressa. Un'ongulia. Un'altra. Ma. Ma tu mi raccomando un po' lo che ho fatto un attacco. Ma tu mi raccomando? Tu mi raccomando un pressa? Uno o nulla. Ehi, hanno un buon amico, sono i poteri, sai? Tu non sei, io non amore. Sì, io me ne so abitati, ma se qualcuno mi spunzica, te ne sa che cosa. Mi conviene creerci, io credo, vogliono il nostro lavoro, ma se qualcuno mi spunzica, io devieno il nostro. Un terzo dopo. Visco, visco benissimo. Come? Chi ha detto? La Corte. Sì, si, perché? Che c'è? Che c'è? Sono lei che mi ha colpito a cuore. Come sa, come sa, come sa, come sa, come sa, come sa cosa fa. Allora non ti ha detto. No, non ti ha detto. Luca deve andare in due, non ci vede. Se mi chiede via. Mi sa, da te necci, vuoi. Io non dobbiamo che vedo qua. Mi chiedo a te, ma. O è? A sed. Non posso essere gentile come un amico di mia sorella, voglio dire, se non è vero, è tutto benvenuto. Come così, se non è vero. Ehi, che non è stato più ordinato, ci vuol parlare di tutta questa amicizia, ma cosa c'è comunque? Salute, casci. Sai, mi spiace sentirti dire che mia sorella non vi è abbastanza vita. Mi dispiace perché sarebbe abbastanza amica. È amica, è amica. Un po' di sale? No, no. Non riesco a capire come è stato. È un po' di vino? No. Non riesco a capire bene. Eccoci. Non succede questo consiglio? Vuoi vivere? Tu sei un uomo di mondo? Sei come una amica? Vedi? Perché sono un po' preoccupata per me. Vedi? Il guai è che non è facilissimo. E non legare davanti non riesce. È triste per dire così che la faccio. Non riesce a capire. Non riesce a capire. Però io vorrei che si messi da fare questo mondo. Più che l'ho da. Ma sei una sola minuta. Vuoi chiamare l'anno nella mia vita? No. Non vuole che è molto semplice. Mi ha capito assenza. Mi faccia male e basta. Non so. Non si dice. Eh... Ti provo. Non ti dice. Non riusciva adattarsi allora. Non hai conosciuto il tuo ciclo. Eh? No. Non ha conosciuto il tuo ciclo. Non lo conosci tanto. In marchio. In marchio. Vedi, la tengo qui per fare le volte che la vorrei. Ma... Sono come i tanti. Senti, ma tu cosa intendi, cosa dipendisci? Beh, cosa vuol dire strano? Cosa vuol dire strano? Strano! Storano, perché? Dove l'ha trovato? Cosa c'è di strano in questo? Ok! Io non lo potrei, strano! Niente! Adesso cominci a fare il mondo, eh? No! Basta! Viagra! Finisce! Eh, mi senti! Ho una proposta da! Che mi diresti? Di restare qui? E di fare il... So? Beh! Io ho un brazo! Un sciacchiccioso! E sciacchiccioso! Non sono brazzi! Sono sincera con te! E lo... Che potrò chiedermi uno come te che resti qui e che Dio non ti ha da inizio, sì! Eh? Credici! Eh? Il problema è che... Io gli ho visto un po' che non lo manco! Ah! Che può parlare! Tu mi sei più un tipo in gamba! E questo passo! Per essere in gamba con in gamba! Ho avuto una grande qualità di effetto di lavoro in passaggio, eh! E questo lo sapete! Lo sapete! Lo sapete! Lo sapete! Quando prima hai entrato fuori qui! Ehi! 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 Mi sono! Ehi! 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 Lui! Ehi! Ecco! il tasto, per esempio il limogno, sai, allora sai che ti dico, sono contento di farlo solo per te, di dare l'occhiata in giro per te. E' vero e' benissimo! Certo dobbiamo renderci raccordi per tutto il compenso e che sia un vantaggio per te. Ma io sono così, io sono qualcuno sia un vantaggio. E' vero quel che mi časca e sei un vantaggio? E' vero e' vero le sono 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 le è vero e ceride mangiare ho la bambina. Clefetto, quanto? Ma ce l'hai? Da tante tante. E tu? Dove ce l'hai? Potete prendere? Tutte. Ma in una città di conflitto. Sì. Alla città di conflitto. E dove sarete? Città di conflitto. Volete città. E' l'unità. Dopo le partite oggi per arrivare città. Aspetto di tanto tempo. Dando tempo. Dando tempo. Dando tempo. Senti. Non è che mi puoi procurare un bel riscatto. Ma non tanti soldi. E' prontato. Ma nella mia professore. Vero? 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 Grazie. Cos'è? Cos'è? E' detto che volevi essere svegliato? Per fare cosa? E' detto che volevi andare nella città di confincia. Sarebbe una buona cosa se potessi andarci. Beh, non ha detto la mia testa. Beh, questo non mi ha giusto. Vale. E' una domenica. E' una domenica. E' una domenica. E no, è verificile. E' tutto nuovo. No, no. Eh, l'avevo detto che mi veniva in testa. L'avevo detto che l'aria mi veniva in testa. E' così. Ho scontato che l'aria mi veniva in testa. E' tanto l'aria c'è il nuovo tempo. E non è giusto. No, è proprio in testa, no? L'aria. L'aria. Senta, amica. A me non devi parlare di aria dentro di quelle cose là. Fuori non la dicevo. E' la testa finestra. E' una troppa aria. Non mi fa dormire. Mi disturba il sonno. Senta, amica. Un disturbo. Se invece di parlare di qui. Nessuno di dunque si beccherà la nocchia. Capisci quello che voglio dire o no? Sì. Ma io non posso dormire senza la finestra aperta. Allora dormerci. Dormerci, eh. Perché non cambierà? Tu. E dormire con i piedi a me. Cosa cambierebbe? Non ti pioverebbe più in testa? Ah, no, no, no. Io sono di quando dormi in questo modo. E poi, mi saperebbe per le gambe, le braccia, la schiena. E arriverebbe sempre in testa. Sempre. 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 Allora. Che dici? Conchile a mezzanestro. No, no.